E la quale la voce? Oh, vittoria, vittoria! Ma non capite? Oh, che zuccoli! Si corre dal notario, e se il notario presto, dirà da vosso donati, c'è un gran peggioramento, vuoi fare testamento, portale su camboile pergabene, questo mi sede, se non entra al lì, e del notario viene. Entra la stanza semi-oscura dentro del reto entra e divoso la figura in e sta la cappellina al viso la pezzolina tra cappellina tra cappellina e pezzolina un naso che par quello invece di cuoso il mio per chi è il posto di cuoso cissonino io lo schicchi con altra voce e forma io falsi dico in me cosa donati che stanno e stanno e dando al testamento norma la gente questa matta pizzerria che mi già pilla nella fantasia e tale da sfidar l'eternità 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 Grazie.